La startup è un progetto di impresa che spesso e volentieri ha dietro dei giovani imprenditori che stanno cercando di portare un'innovazione con un impatto sociale potenzialmente importante. La startup è un sogno che vuole essere realizzato. Microsoft, Google, Facebook, Alibaba, Amazon, quando sono partite erano un'idea di impresa e quindi una startup. Siamo qui perché vogliamo o stiamo cercando di costruire dei ponti. Come in tutto l'ambiente terra c'è una quota della popolazione che nasce con un sogno e vuole farmi imprenditore. Credo che l'Africa sia il futuro e sicuramente il mercato del futuro è un luogo dove i problemi sono grandi e di fronte a grandi problemi ci sono grandi opportunità di fare grandi imprese. L'ecosistema startup in Uganda ha delle caratteristiche molto particolari. Penso che a me e ad Andrea ci accomuni la volontà di provare realmente sul campo questa energia nel mondo dell'innovazione, del digital in Africa, in particolare in East Africa. Il progetto è nato a metà del 2017 e in questi anni abbiamo organizzato tre edizioni dell'iniziativa toccando tre paesi diversi, Uganda, Kenya e Tanzania. Quello tra me e Lorenzo è un amicizia, un rapporto che è nato su Twitter. Ci siamo incontrati di persona, è praticamente il giorno della partenza. L'edizione 2019 ha visto la partecipazione di 120 startup. Abbiamo selezionato 22 startup per il bootcamp, la settimana di formazione che abbiamo tenuto presso la Macerere University a Kampala. Abbiamo iniziato l'agenda di giorno per giorno con te, per cui puoi avere un'intervista di cosa sta succedendo. Al fine del giorno, quando ti chiedi i startup, ti chiedi che il grande problema è il fondamento. Allora, questo è quello che stai facendo. Questo è fantastico. Ma dopo la presentazione, non puoi riposare e dire, «Ehi, ragazzi, vieni!». Quindi il problema è anche la presentazione. Sì, sì. Il balancio sarà tra il risultato che dobbiamo comprare con gli entrepreneuri e la necessità di preparare un buon punto finale. Dobbiamo aprire i nostri risultati. Il risultato, credo, è cambiato. Ma, ovviamente, è cambiato tanto. Fino al 2017 ero estremamente ignorante su che cosa stesse succedendo in Africa. Quindi anche io pensavo che il continente africano fosse un continente in fuga, estremamente povero. Quello che poi ho scoperto sul campo è che, appunto, l'informazione che noi vediamo dell'Africa è parziale, che non vuol dire che sia sbagliata, ma è sicuramente solo una parte di quello che è l'Africa. Il mercato di Kampala è praticamente la gente che cercano di trovare le mani di fendere per le famiglie. Quindi tutti cercano di guardare quello che possono fare per salvare il giorno. Siamo un paese molto piccolo. 50% di questo paese è sotto 15, 78% è sotto 30. Questo è nulla di energia che non si tratta. Credo che sarebbe riuscita di non investire in questo. Perché questa è la plateforma future per cui tutte queste entrizi saranno crescendo. Credo che la differenza tra l'Europa e l'Ecosysteme e l'Ecosysteme sub-Saharan è solo risultati e il risultato. Credo che la passione è presente in due. I due ecosystemi sono molto brillanti e lavoranti. In East Africa abbiamo una crescita del PIL, del GDP, che va dal 4 al 6% tipicamente, dove da noi invece la situazione è stagnante. In le passi, circa 3 anni, non so long ago, molte persone hanno cambiato il business da solo le locali fisiche all'online. Se non vengono cashless, vengono vengono. La scuola è posizionata per essere un leader in l'Ecosysteme. In fact, in novembre, we'll be hosting an African fintech summit. My name is Mohamed Chisidisa. I'm a co-founder and the CEO of AFCAD, commonly known as the SLAM Ambassador. Here in Goaise and other SLAM areas, half of that population has not attained primary school. 80% of them survive with $2 or less in a day. Accessing internet or digital technology is very hard. Life in Goaise is characterized by lack of access to basic necessity, poor hygiene, poor sanitation, poor infrastructure, overcrowdedness. AFCAD briefly is a non-profit organization founded in 2009 to help transform lives in Kampala's SLAM areas. 65% of our young people, they have been retained and successfully employed and 25% of them have started up their own jobs with support with startup capital. So we have a venture, so we support young people who have graduated from here with equipment to help them start up their own jobs. Il contributo che abbiamo voluto dare a Startup Africa Road Trip è stato proprio cercare di contribuire a livello di ecosistema. Aumentare le possibilità di collegamento tra l'uno dell'altro, della rete, fare empowerment su coloro che sono i protagonisti di questo ecosistema. It's really good to meet all of you. You are the change makers, the innovators of this country and we hope to make the innovation happen in the next days. What else do you want to have? Enjoy the beer. Enjoy the connection, ok? Thanks for coming. Ok, so, this is for you, you are two of the same startup, right? Ok, this is for you, you can write this one too. And please write your name here. So, my expectation is that the startups that are still young, we shall have these startups that have come for this bootcamp, getting to the market, having success stories. Sixty seconds! This year, we managed to build an incredible team. Listen to your customers, be ready to change your mind and to change your path. Abbiamo dovuto cercare di avere un affiattamento buono nel gruppo e, secondo me, ci siamo riusciti bene, considerato il fatto che è stata la prima vera occasione in cui abbiamo collaborato. It will help you to understand which are the main parts, the main elements of your marketing strategy, ok? It's a step-by-step strategy. The binary right basically looks at supporting the startups in technology, helping them with... The way the startup Africa road trip is run, the kind of mentorship that you have, a one-on-one with different teams, with different people, with a different skill set, is one thing that we really need. Si è unit a noi Francesco Rubino, consulente di Pioneers. I need your help today, I need your contribution. We're gonna talk about business model. My view is how you get your business moving to make money. How do you make your money? You have this business model and then you test it. You ideate your business model, you go to the market, you take feedback from the market. If the feedback is positive, you move on, otherwise you go back and you make it more efficient. We're still a business model, so we need to get the information for people, not to sell to others, just to take us and to work better for people. So the plan is, I create the plan, I take the money, I realize the plan. And then I take more money and do more things, more things, more things. So how many people are looking for that service? How many people are looking for this product? Francesco Robustella è il nostro CTO e oltre che marketing specialist. You are losing opportunity because the people that are looking for your product are not reaching you. Agnese è stata l'ultima ad unirsi al team. È stato un valore aggiunto per quello che è il suo ambito, quindi il digital marketing. Sono già aware del problema, che non hanno la qualità, certo? Quindi il secondo step è di dire, Online Battery, aiutare mi a ottenere la qualità. Perché devo credere a te? Sì, sì. Quanti di voi gestiscono una pagina Facebook? Quanti di voi gestiscono una pagina Facebook? Paolo è un amico e coinquilino, quindi devo ancora capire se ha sposato il progetto più per disperazione. È stato un po' l'anima della comunicazione del progetto. Ok, questa è la scena. Campaign, Headset, AD. Innovation, per me, significa Waking up in the morning Trying to think about what you didn't finish the day before Maybe creating a kind of behavioural change positively, of course, in people's minds. The Innovation Village is a home for entrepreneurs and innovators that are dreamers, that have ideas and want to see big change. First block is the growth stage company block. Block C is the bureau or the later stage company block. Then block D is the space that we are setting up and will have future labs but then also will be the maker space. La nostra iniziativa è iniziativa nel 2017 giusto pochi mesi prima Zuckerberg ha fatto la sua prima visita in Nigeria Jack Ma di Alibaba mentre sta andando in pensione ha come obiettivo di visitare tutti i paesi del continente. I'm Jacobina, I'm events manager at Design Hub Kampala. Design Hub Kampala is a co-working space and a maker space. So at Design Hub we have companies which are Uganda and also a lot of international companies. What we realised was that there are so many talented African developers but they don't have that much exposure to the international projects. So where Tunga comes in is to bridge that gap and create this opportunity for them. Then after the three months we then assign a coach for a business manager to help them and guide them for the many nine months. So all in all it's a one less program and it's free of charge. The focus of a business incubator is to help the development of small and medium-sized businesses in Iran. So again transport and logistics, civil works and construction, camp services, hospitality but now we're also focusing on agribusiness. There's no reason an innovation that is created here in Africa can't be relevant around the world. So I think when we start to have these kinds of equal exchanges and these kinds of collaborative experiences that we get to learn about each other. My name is Lawrence Sikusoka I'm the co-founder and CEO of International Airtime Top-Up. We're a service that facilitates cross-border airtime transfers. So in the morning there were one or more interventions while in the afternoon everyone of the team had their own two or three start-up to follow them and translate in reality what was taught in the morning. What was taught in Uganda? The biggest challenge we had at the hospital waiting times for patients so waiting times were an issue. Key questions have been asked about our line of business issues to do with information security and data integrity that we might have taken lightly in the beginning. I must say that the start-up have reacted very well and all the guys have put together. Because the insurance companies also so they are able to have these devices for their medical clients. We need to get connections to get aware of this solution being integrated but it will be best if it's the Ministry of Health adopting it because if it adopts it each and every health center will have details. Divine Bamboo is an agroforestry company whose mission is to stop deforestation in Uganda through promoting fast-growing indigenous bamboo species and established bamboo plantations. because I noticed it kind of took my time yesterday I explained the process here and I kind of re-explained so what I've decided when I come to this slide I will say that our solution takes on a three-step process which is business processes, payments and data. The pitch we developed has really, really improved. It's become more focused. With the investor, when you do a pitch when someone asks you why the gorillas are so important we also need the people who know everything about the gorillas. We need the people who love them. I'm Dr. Gladys Kalema Zikusoka founder and CEO of Gorilla Conservation Coffee that we founded to save gorillas one sip at a time. So we found out that farmers living around the park have very little food so Gorilla Conservation Coffee offers these farmers very good prices above the market price for very good coffee that we train them to produce and then we sell this coffee to Uganda and around the world. So is there anything you think we should change? No, no, it's okay now. It's okay, it's more clear. So I said there are 45.3 million Ugandans. I've been to Switzerland training, South Africa, so many. But this one week has given me a lot of stuff. Because when I look at this, it tells me that there is something not right. It looks super complicated. My name is Alfred Opio, CEO and founder here at Keno Africa. Did you know that 80% of our children in Uganda cannot do basic mathematical computations? Did you also know that 60% of these children cannot read a basic sentence in English? So what we intend to do as Keno Africa is to blend our national curriculum with the STEM approach of teaching methodology. This one now we are starting to teach children. Along the curriculum we are teaching children how to be problem solvers, how to be able to present, how to do things as a team. So the patients will be able to access services online. And we're not charging them. We do not charge the patients. We want to be the first company to integrate such that we make each and every hospital speak to one another. and that information is available. And it will also help with other services like billing and payments. So we learn what it means to make a business in extremely difficult conditions like in the African context. I don't know. If it's possible and in fact they do it, it's awesome. But there is a technology advantage. But there is nothing to have a technology advantage. And then you have to have an execution. Three agribusiness, two health, one IoT, one ECT e one Mobility. No, there's nothing to have. Three health. Three health. One point. Half-time data. Half-time data? No, 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 no. We have to decide. Let's say, Keno. Because the other categories there are. I didn't know that we, tra l'altro, we know the investors very well about what they invest. So we thank everyone again for coming here and for taking part in this workshop. I think we have seen the good things during these five days. Four days actually. But tomorrow, some of you will have the possibility to present in front of a jury. This doesn't really mean that the others are not good. This means that for us, it would make sense to present this startup to the jury. Because we could do something. Okay? My name is Nanyombe Margaret. I am the founder and CEO at Her Health Uganda. We create health tech solutions for disadvantaged communities using Internet of Things. And then, based on your results, you're able to get an online consultation with a doctor and you can also recommend whether you should go into the hospital for further testing. Nel mondo dell'imprenditoria giovanile legato al mondo digital dell'innovazione, c'è una maggiore presenza femminile. We have more women coming out because they feel that, much as this space was initially a men's space, we also have ideas. We also have things that we want to see changed when it comes to innovation. Who better can create a woman-based solution than a woman who has been through it? Hello. You can find the QR code here. If you scan it, and then you have to go, basically, to start with you. Tonight, we're going to have a pitching session. Jaguza is a livestock management system that focuses on empowering livestock production and strengthening food security, mitigating risk of disease, using machine learning, Internet of Things, and big science. It is a livestock management system that detects diseases 48 hours before they manifest. Imagine that you're flying from Ntsepe to Dubai. When you arrive to Dubai, you have your UAE number, and you wish to top up airtime on your Dubai line. So, do you think that supply should be focusing on evidence? Can we pop up money? Source to destination. In another study that was carried out in Boshenia and Kampala district, out of 1,300 women that were tested, 51% did show signs and symptoms. Meaning, one in three women will get an infection and don't even know about it. Have you explored doing unprocessed coffee in these countries? So, the roasters in Italy, the roasters in America would consume that rather than the final processed coffee? Yes, we have. And what we wanted people to know is that this coffee is from where the gorillas are found, it's traceable and it's saving gorillas. It was a very successful event, which has seen the final premiere of four projects. When we talk about startup and innovation, we cannot be more happy to have you here to show how innovation is an important driver for development, but also for cooperation. And about two years ago, three, another ministry, specific kind of science, technology and innovation, was also created in this country. The startup is Zembo, as I mentioned. We deal in electric motorcycles. We bring electric motorcycles to Uganda. Kampala, a very high-level weight of a diesel engine, of driver, so there's the boda that takes us around the city. We don't want to change, we don't want to take away the boda boda, but rather we will make it more efficient, we will make it electric. questo è Giorgio grazie 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 credo che ora siamo pronti pronti per annunciare i vincitori il nostro obiettivo è portare loro in Italia e presentare loro a nostra network di corpore e investitori ok, ho fatto ho fatto è una ragazza, è una femminile co-founder è Marta di Swipe2Pay grazie Ugganda ha stato rancato l'ultima migliore e perché i migliori i migliori e stagliare e stagliare in questa economia dinamica molto è scoperto questo è l'ultima di Swipe2Pay offrono un sistema di gestione si uscita il numero di clienti in il tuo telefono e manda il vostro a loro il terzo il terzo il terzo per la settimana di Startup Africa Ugganda 2019 va a Tzembo Motorcycle Grazie e ho pensato che i migliori che i migliori i migliori che i migliori che i migliori i migliori e ora abbiamo bisogno di un altro in prima che voglio invitare una ragazza una ragazza è Margarete il terzo il terzo quello che abbiamo provato a fare con questo racconto è stato quello di impressionare lavorando sulla valorizzazione degli aspetti reali che ci sono sull'innovazione che inoltre che sono inoltre che sono inoltre 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 che sono cambiando inoltre che sono sono un'unico che sono diventata che non 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 perché è diventata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti